Sono già un ex a 44 anni ma un ex di molte cose battute e sferzanti commenti da parte di Matteo Renzi che torna a Fano da ex segretario appunto nella serata di presentazione al cinema Masetti di Fano del suo ultimo libro che parla della sua Italia dal titolo emblematico Un'altra strada idee per l'Italia di domani dove prospetta una nazione dove la paura non soffochi la solidarietà e la paura dell'altro non penalizzi una società multiculturale ed aperta e dove i porti non si chiudono e dove l'accoglienza va a braccetto con l'inclusione È un libro che sta facendo discutere, che sta facendo parlare, questo è già un fatto positivo, c'è tanta gente che partecipa alle presentazioni e segno che molti italiani non sono contenti della strada di Salvini e Di Maio e vogliono andare appunto in un'altra strada, su un'altra strada Una società insomma che tiri da tutt'altra parte, secondo l'ex premier, rispetto alla deriva imposta da questa leadership giallo-verde Ma anche se da ex è venuto non è affatto scarico di energie, anzi, dopo la sua lucida analisi sull'inizio della fine, collocato sul fallimento del referendum costituzionale Che non pochi lutti addusse ai piddini rilancia affermando con decisione che siamo tra i pochi che quando parlano di passato possono permettersi il lusso di presentare dei risultati In dubbio è che però la sua debacle personale sia coincisa anche con un riverbero di conseguenze negative anche a livello locale, leggi risultati che tutti ormai conosciamo Matteo Renzi in una sala del cinema stracolma di fans e membri di partito, sabato sera è stato introdotto dal vice presidente del consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi E dalla deputata Alessia Morani con un parterre democrat di tutto rispetto, a cominciare dall'amico Matteo Ricci e da tutti gli esponenti del PD locale Ai quali ha infuso con la sua verba oratoria un po' di energia in vista delle elezioni amministrative che li vede uscenti in diverse città Tra cui Fano, San Costanzo e Pesaro per l'appunto Attraverso una similitudine d'effetto come solo lui sa fare, ovvero il leggendario gesto del passaggio della Borraccia tra Coppi e Bartali Dove non conta chi l'ha compiuto in calza Renzi, riferendosi al fatto che non si sa per certo chi l'ha data a chi e chi l'ha presa da chi Sta benedetta Borraccia, il vero valore sta nel gesto, tra due rivali sì, ma uniti dalla fatica di arrivare in fondo Parola di Renzi Grazie 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 Grazie